Domani nel Salone della Provincia si tiene un importante incontro nell'alveo delle manifestazioni della violenza contro le donne. Di cosa si tratta? Si tratta di una giornata dedicata, di un incontro dedicato alla violenza di genere nei luoghi di lavoro. Lo specifico proprio dei luoghi di lavoro è competenza della consigliera provinciale di parità che si occupa proprio delle discriminazioni e delle molestie sul lavoro e tutela poi la parità all'interno del lavoro. Ho organizzato questa iniziativa in collaborazione con il centro Europe Direct della provincia e parleranno insieme alla dottoressa Tosi, proprio direttrice del centro Europe Direct, un'avvocata, l'avvocata Isabella Benifei, che tratterà e esporrà gli aspetti giuridici e una psicologa e psicoterapeuta, Agatha Faramo, che parlerà invece proprio degli aspetti psicologici e di quanto i soprusi, le violenze e le discriminazioni all'interno del mondo del lavoro possano influire anche sulla vita di relazione, sulla vita della famiglia, anche delle persone.